Quelli dedicati al culto dei morti sono gli unici giorni dell'anno in cui nei cimiteri ci sono più vivi che defunti. Lo si percepisce già dalla interminabile fila di auto, da stamattina presto, parcheggiata alla meglio nei pressi dei luoghi dell'estremo riposo. A Venafro poi, il 2 di novembre, la visita al caro estinto è un rito che dal punto di vista istituzionale si celebra due volte. La tradizionale commemorazione al sacrario militare francese, stamattina preceduta dalla visita al cimitero cittadino. Fuori, in attesa del vescovo Monsignor Camillo Cibotti, che di lì a poco avrebbe ufficiato la Santa Messa, a fianco del sindaco, parlamentari d'Italia e d'Europa, vertici territoriali di carabinieri e finanza, la console francese a Napoli. Nel frattempo, all'interno, familiari dei cari estinti intenti ad adornare lapidi marmoree con fiori ed altri ornamenti tipici della ricorrenza. Una incombenza, spiega il vescovo, che è anche un modo per riconoscere e ricordare quella identità che la morte non fa sparire. Rimangono le opere, i gesti, vivi nella mente e nell'animo di chi, a quelle persone, oggi rende omaggio. E come si suol dire se i morti potessero parlare? Monsignor Cibotti non si sottrae. Mi sono chiesto, proprio in concomitanza con questi eventi che purtroppo sono drammatici, se si facesse una domanda ai nostri defunti se volessero tornare sulla terra in questo momento, penso che rimarrebbero molto volentieri dove si trovano, perché sono anche scandalizzati dal comportamento di quegli esseri umani che sono rimasti su questa terra perché non vivono e non condividono quei valori della pace e della giustizia che eviterebbero sicuramente queste realtà belliche. Grazie.